Tommaso Pichi è uno dei veterani della Scandone di Nino Sanfilippo, l'esperto cestista alla sua seconda stagione in maglia bianco-verde che sta agendo nel ruolo di centro, spende belle parole per il gruppo, consapevole che il roster è di assoluto livello. L'ho fatto l'anno scorso per due mesi, visto l'infortunio di Luigi Cianci, che saluto tra l'altro, e poi siamo una squadra molto diversa, abbiamo adattato i giochi per potermi permettere di giocare in questo nuovo ruolo. La squadra, secondo me, deve un po' ingranare, nel senso che comunque non giocare la prima partita, poi perdere la prima in casa con Molfetta, abbiamo visto tutti come. Oggi viene qua Mola, che è una squadra molto tosta, giovane, che corre, diciamo che dobbiamo crescere tanto. Ma assolutamente sì, nel senso che noi abbiamo il vantaggio di essere dieci giocatori, quindi dovremmo essere interscambiabili. Però è anche normale che soprattutto all'inizio del campionato le gerarchie sono un po' da trovare. Quindi uno magari si risparmia un minutino, una difesa cerca di tenere un attimo botta con l'esperienza, piuttosto che con la corsa, però non ce lo possiamo permettere, perché tanto siamo in dieci, quindi possiamo permetterci di correre e andare. Dopo la prima vittoria in trasferta sul parquet di Mola, ora sfida interna al Del Mauro contro Talanto, dove si proverà a regalare la prima gioia casalinga ai tifosi. Anche perché i nostri tifosi direi che lo meritano, visto il tifo che ci hanno fatto già sabato scorso. Questa è la promessa di Pichi ai supporter Serpini. Di continuare a lottare per questa maglia come abbiamo sempre fatto. Questa è l'unica promessa che mi sento di fare. Poi le partite verranno.